su due piani temporali, il 1979 e il 2012, e su due personaggi, uno è questo delinquente e un altro è Marcello Castelli che è un professore universitario dei giorni nostri che ha paura perfino di mettere meno di 30 e l'olio, cioè lui ha paura di tutto, ha paura di chiedere a una donna di uscire, di dire di no a un amico, a un nemico, è uno che subisce la vita, quindi sono due personaggi completamente agli antipodi che finiranno per incontrarsi in un modo molto particolare, che non vi svelo, però vi vado a leggere l'inizio perché si capisce un po' chi è Tonino. Roma gli ha rubato l'anima e ci ha fatto un'erbermagica al mando. Dove sta l'erbermagica? Qui, qui. Qui, qui. E' loco. Ma che mi dici là? A sapere. Allora, chi è che capisce il mistero dell'erbermagica al mango? È una citazione di un film molto famoso. Tirate fuori un vero nerd. Niente? Lo sapete? Lo sapete? Praticamente... Lo sapete? No. Nel film Seven, quando vanno sul luogo presunto, insomma, nel covo del serial killer, Trono. Trono.